Tre giovani della Valtiberina incastrati dai cani antidroga e fermati dai carabinieri avevano messo in piedi un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione che ha coinvolto i carabinieri di Sansepolcro, insieme ai colleghi della stazione di Pieve Santo Stefano al nucleo Cinofili di Firenze, è partita da un semplice controllo su strada durante il quale un 19enne era stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish. I carabinieri hanno seguito il ragazzo, hanno ricostruito le sue frequentazioni e raccolto una serie di indizi che li hanno portati a sospettare che dietro a quel ritrovamento ci fosse altro. L'indagine sia così avvalsa anche dei cani antidroga e gli investigatori hanno perquisito all'alba l'abitazione del ragazzo. Sono stati così ritrovati e sequestrati un bilancino di precisione, 6 grammi di hashish e 6 di chetamina granulare e materiale per il confezionamento della droga. Subito dopo i militari hanno fatto irruzione in una seconda abitazione, residenza di una coppia di giovani del posto poco più che ventenni. Anche qui sono stati ritrovati 22 grammi di chetamina, 13 di marijuana e 600 di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e 2.000 euro in contanti. Per i due è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione e fini di spaccio di stupefacenti, mentre il 19enne è stato denunciato.